Musica Mascherine a scuola, chiarimenti in aula sull'utilità della misura Chi è di scena? La Repubblica Premiati i vincitori del concorso indetto dal Consiglio regionale Omaggio a Macario Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati Obbligo mascherine a scuola Il Movimento 4 Ottobre ha chiesto una comunicazione in aula da parte dell'assessore competente sull'utilità della misura Comunicazione in aula da parte dell'assessore all'istruzione sull'obbligo delle mascherine a scuola richiesta da una componente del gruppo Movimento 4 Ottobre La consigliera di opposizione è intervenuta definendo la situazione incoerente e irrazionale non basata su evidenze scientifiche perché i ragazzi possono andare liberamente ai concerti e in luoghi con assembramenti Vi è una mancanza di attenzione verso la scuola e una fascia di età che sta pagando un prezzo altissimo Anche l'altro componente del gruppo Movimento 4 Ottobre è intervenuto parlando di una disuguaglianza odiosa e fastidiosa rispetto a tutte le altre situazioni dove le persone non sono costrette a indossare le mascherine Non è condivisibile la posizione del Ministro dell'Istruzione quando dice che le mascherine rappresentano un valore educativo ha sottolineato l'assessore all'istruzione regionale nel corso della comunicazione in aula L'assessore ha proseguito spiegando che più volte è stato chiesto quale sia il valore sanitario di questa misura soprattutto in questo momento nel quale molti membri della comunità scientifica hanno criticato l'uso delle mascherine a scuola Da tempo l'assessorato ha richiesto che i bambini non siano più obbligati all'uso della mascherina a meno che non vi siano delle evidenze scientifiche in tal senso Voucher scuola e fibromialgia tra i temi al centro delle interrogazioni nell'aula consigliare La Giunta non intende abbassare la soglia ISEE, indicatore della situazione economica equivalente al di sotto degli attuali 26.000 euro per poter presentare le istanze di assegni di studio per iscrizione e frequenza delle scuole paritarie Arriva a dirlo in aula l'assessore regionale all'istruzione in risposta a un'interrogazione del capogruppo dei moderati nell'ambito dei question time Il vero tema da affrontare, secondo l'assessore, riguarda la voce libri di testo, tema su cui occorre rivedere i criteri Al momento, infatti, la soglia dei 26.000 euro di ISEE non consentirebbe di coprire tutte le richieste che arrivano per il voucher libri In aula è stata anche data risposta all'interrogazione del Movimento 4 Ottobre sull'effettiva attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio regionale nel settembre 2015 e nel gennaio 2017 riguardanti la fibromialgia e la conseguente classificazione nel nomenclatore nazionale L'assessore al bilancio, per conto di quello alla sanità, ha spiegato che allo stato attuale la fibromialgia non è stata ancora inserita nel nomenclatore tariffario nazionale sebbene al Senato siano in discussione alcuni disegni di legge per il suo riconoscimento quale patologia cronico-invalidante In Piemonte, però, i malati sono presi in carico dal sistema sanitario Premiati al Museo del Risorgimento i vincitori del concorso Chi è di scena? La Repubblica Rappresentare attraverso il teatro e la recitazione la propria idea di Repubblica e i valori fondamentali della Carta Costituzionale Questa è la finalità del concorso Chi è di scena? La Repubblica promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale i cui vincitori sono stati premiati nel corso di una cerimonia al Museo del Risorgimento di Torino Il concorso, alla sua prima edizione ideata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Piemonte, un percorso che ha l'ambizione di offrire ai giovani quelle conoscenze per apprezzare pienamente il valore delle conquiste politiche e sociali in oltre 70 anni di Repubblica I primi classificati di ciascun grado hanno proposto nell'aula della Camera del Parlamento Italiano del Museo la performance che hanno presentato in concorso È stata un'esperienza molto molto piacevole per ragazzi e soprattutto per insegnanti Presentavo i luoghi di San Damiano, presentazione di luoghi, anche di luoghi fuori San Damiano Abbiamo realizzato questo video che abbiamo chiamato anche a Megolo si è costruita la Repubblica Anche nel nostro territorio si sono fatti dei pezzi di storia di tutta l'Italia Agli istituti vincitori di concorso è stato riconosciuto un premio in denaro per l'acquisto di strumenti o materiali informatici destinati a rimanere in dotazione alla scuola Ai singoli vincitori è stato invece regalato l'abbonamento Musei Young I ragazzi e le ragazze vincitori del concorso indetto dal Consiglio regionale Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro hanno invece partecipato alla visita guidata al Museo del risparmio a cura dell'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, estorsione e sovraindebitamento Il concorso, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte è pensato per educare gli studenti a una gestione consapevole e responsabile del denaro e la promozione della cultura della legalità Sono ragazzi delle scuole superiori, hanno prodotto dei lavori multimediali oppure lavori compilativi e per questo hanno ricevuto un premio e il premio consiste proprio in questa visita didattica svolta con il Museo del risparmio Il 27 maggio 1902 nasceva a Torino Erminio Macario artista versatile che è stato fra i protagonisti del mondo dello spettacolo del Novecento Il presidente del Consiglio regionale in occasione del 120esimo anniversario della nascita di Macario ha voluto portare un omaggio floreale davanti alla casa natale dell'artista in via Botero 1 alla presenza anche dell'attrice Margherita Fumero e di Giulio Graglia presidente dell'Associazione Culturale Lingua Doc Durante l'ultima edizione del Salone del Libro il Consiglio regionale ha presentato le iniziative che verranno organizzate nel corso dell'anno per celebrare la figura di Macario Primo appuntamento la sera del 17 giugno al Teatro Gobetti per un talk show che raccoglierà le testimonianze di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo che ebbero occasione di conoscere Macario e di lavorare insieme a lui Ornella Toselli è stata confermata presidente della consulta femminile regionale Ornella Toselli è stata confermata presidente della consulta femminile regionale del Piemonte l'elezione per il rinnovo dell'ufficio di presidenza di metà mandato si è svolta nella sala Viglione dove è stata convocata l'assemblea plenaria dell'organismo istituito nel 1976 l'esito della votazione ha portato l'ingresso di Rossella Calabrò nel ruolo di vicepresidente confermate invece la vicepresidente Maria Alessandra Parigi e le consigliere segretarie Graziella Camurati e Silvia Ramasso All'assemblea ha portato il saluto il componente dell'UDP del Consiglio regionale delegato alla consulta Il primo obiettivo sicuramente è quello di trovarci molto intensamente perché dobbiamo recuperare il tempo perso, dobbiamo recuperare il tempo in cui non abbiamo potuto vederci contiamo assolutamente di poter ricollegare i fili e nello stesso tempo mandare avanti tanti progetti che abbiamo giacenti in attesa di poter essere avviati La consulta femminile regionale è un organismo consultivo del Consiglio regionale che contribuisce all'elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale con particolare riferimento alla condizione di vita, lavoro e salute della donna per favorirne l'effettiva partecipazione all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale In occasione della Festa della Repubblica il Consiglio regionale del Piemonte ospita fino al 17 giugno nella Galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris la mostra fotografica tricolore, non solo una bandiera Nelle 30 immagini realizzate da Emilio Ingenito, fotografo torinese e fondatore nel 1995 del gruppo di ricerca il terzo occhio fotografi, il tricolore della bandiera italiana è rappresentato in diverse situazioni anche non istituzionali con i colori bianco, rosso e verde vediamo infatti dai monumenti ai caduti alle illuminazioni stradali, dagli abiti di sartoria agli spaventapasseri dal cibo agli oggetti d'arte La mostra è visitabile da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, festivi esclusi, l'ingresso è gratuito Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci! Arrivederci!